No, però c'era un messaggio motivazionale serio Ci hanno preso in giro ragazzi perché siamo arrivati 4 Mentre gli altri vincevano e addirittura festeggiavano Ti rendi conto che gli altri vincevano e festeggiavano E ti prendevano in giro perché non hai vinto C'è una roba assurda che non succedono nel calcio ragazzi Ma adesso è il momento di rifarci È il momento di tornare ad essere la Juventus Bella la felpa Comunque quest'anno avresti un po' di soldi La Piratecilia uccide il calcio Stop Pirati Buona partita a chi la vedrà Buona partita a chi la vedrà con noi E speriamo, dai speriamo Alessandro ma via Grazie Alessandro è di nato La storia di Alessandro No Però ragazzi questo è il rigore Questo è di buono l'ha abbracciato Ma come ti fa ad abbracciare Alessandro è di nato e la storia di Alessandro ragazzi Bremer in anticipo su De Frel Ma sai Bremer Ma quanto è forte Bremer Bremer Bro non troppo però Ma tra Alessandro e Bremer abbiamo quella fascia sinistra della difesa Che è assurda Non mi devi urlare Bremer Ma che difesa è scusatemi Cioè Bonucci e Danilo dormivano Non ho capito niente È stato tutto così improvviso Bonucci e Danilo dormivano Ma chi ha fatto crossare il tipo? Scusatemi Stavate dormendo Grande parata di Perin Però ragazzi non si può così Però Qua Allegri ovviamente La bolgia La bolgia dei fischi La bolgia dei fischi Un minuto di difficoltà Pioggia di fischi Perché è così che la squadra va sostenuta Vabbè Adesso segniamo Così vi state tutti zitti Vai Quadrato sulla sinistra Ho cambiato qualcosa a Allegri Per McKennie Ma tu ne scelte 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 Qua è vicino Gassi di Alexandro Ve l'ho detto che arrivano in gol E' tutti zitti E' tutti zitti L'hanno voluto 5 litri Mamma mia Mamma mia Oh ha cambiato Quadrato a sinistra Rilascio L'entrata con la testa Dopo il culin La testa La testa Si sono mangiati il campo Si sono parlati Si sono messi d'accordo Volevano sto gol Si sono mangiati il campo Lo volevano Ma si vedeva che lo volevano Perché sono stati 4 minuti lì A destra a sinistra Ping pong Di Maria E' Alexandro Primo assist stagionale Di quadrato Alexandro E' rinato Bravo Vlavic Bravo Vlavic anche Abbiamo un po' di culo E' un consiglio un po' Si consiglio un po' Però l'ha vista Veramente all'ultimo Era strano Era un tiro strano Era un tiro strano Era un tiro strano E' un tiro strano E' una pista dell'ultimo Guarda che va E' un gioco Boom Anche il Di Maria Anche il Di Maria 2 a 0 Prima dell'intervallo Dai L'ho recuperato Da chi? Bremer Anche il Di Maria Si lancia da sola Ragazzi C'è Danilo, c'è Danilo che non scende mai Dujan Ma che poco, qua deve segnare Alexandro, Alexandro di sopra Quadratola, ma provate Va bene, va bene, è un tiro in porta Dobbiamo aumentare i tiro in porta Ragazzi, dobbiamo giustificarvi, ragazzi, mi prego, fate qualcosa Fate qualcosa Ma sai che mi troverò veramente in difficoltà Quando alla fine di questa partita dovremmo commentare un 3-0 della Juventus Ci può anche stare Alexandro, un magia, un magia Un magia, uno contro uno Un magia, uno contro uno Enrico Renetto Enrico Renetto Tu sa che si prende la palla E si va a prendere la palla Bravissimo, Alexandro Ma torna il Rinato, il mio terzino Il Rinato mi sembra eccessivo Sta facendo una grandissima partita Il mio terzino è fortissimo Il brasiliano è un caro alla fascia Grandissima partita di Alexandro finora C'è cover, c'è cover C'è il gol, c'è il gol C'è il gol Deve essere il fuorigioco Ma non sembrava ci fosse E basta, Belardi E non è E tu Dushan Dushan Perché tu Dushan E lui è un campione Questa è un campione 3 gol E il primo è oggi Ed è 2-0 Ed è 2-0 Vi voglio vedere dopo A commentare il 3-0 Un po' spartita Ma è Giuliano? No La bimba che piace Dalla gioia Che bello Stornato a calcio L'entusiasmo allo stadio E Centrale Dove Tanto il portiere si butta sempre Si tira centrale Forte centrale Riprendiamo da dove abbiamo smesso Guarda Agli che limone Tribuna Un applauso Un applauso Un applauso L'amore che trionfa È la stagione È la nostra stagione ragazzi È la nostra stagione E chi lo ferma Bremer Finito il primo tempo Ci vediamo nel secondo Questo è nuovo Per Youtube Tra qualche secondo Tra qualche secondo Perché il video ovviamente È editato Tagliato Perché ci vediamo Tra 15 minuti Su Youtube Volete come siamo bravi Forse a saltare 15 minuti così Ci risiamo 15 minuti passati Incredibile ragazzi 15 minuti In uno schiocco di dita Bremer Anticipo Incredibile Apertura Bellissima Di Maria È Danilo Che supera di nuovo Ma è anche Cosa fa Di Maria Danilo Che segue l'azione Guarda Danilo Guarda Danilo Guarda Di Maria Di Maria No L'avevamo visto dentro L'avevamo visto dentro Come ha fatto Perché non ha preso la porta Grande sovrapposizione Di Maria Che ha lasciato il tiro A Di Maria Di Maria Per Vlau C'è tak Di Maria Mano DuCiAN E sono due Per DuCiAN Vlau Madonna 3 a 0 ragazzi Madonna Chi l'avrebbe Mai detto È DuCiAN Vlau Da bomber Vare lì Pam Un giocatore Un attaccante incredibile Guardate come va a pressare Sul difensore Lo fa sbagliare Bravo anche Di Maria Lucilissimo Mano C'era anche mano Però con la mano Non conta Perché è appoggiata È lì Non può mai sbagliare DuCiAN Vlau Bravissimo Quello è veramente Duro da commentare C'è una volta Sera dura da commentare Le sconfitte Adesso Sera dura da commentare Una vittoria Schiacciante Se Sempre se Dovesse arrivare Scensione Bremmer Guarda come se lo mangia Ma stava Mamma mia Ma quanto fa Era Alessandro Era Alessandro Non era Bremmer No bro Ma non hai capito Ma è tornato È tornato Ma 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 cosa dico La maglia del Sassuolo Che faccio Ma Non c'è 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 Io capisco tutto Non ti allegri Però non dico La maglia del Sassuolo Entra Filippo Entra così È mazzia del Sigglio È mazzia del Sigglio Ma Ma Questa cosa ha fatto Questo Questo Apri un portale Spazio temporale Ragazzi C'è Che cos'era Madonna Era un cross intelligente Però Danilo Che è una broma Era già uscito Di No Pensavo c'era il sepallo L'avevo visto un po' spintonato No raga Quando ho detto Alla palla Era uscita Vi giuro C'è Ma ha già valicato La linea Di fondo Ehi c'è il delay Che c'entra No Vediamo È lo stesso Sì Bremer Mamma che forte Che è Bravissimo Bremer Bremer Quante azioni sono partite Da recupero palla Bremer Tantissime È Leonardo Bonucci Che lancia Vlaovic È Dusan Vlaovic Per la prima Di mettermi al conero Dusan Dusan Che sfiga Era bella Bravo Bravo Dusan Bravo Si sta muovendo bene Si sta muovendo molto bene Dusan È finita raga È finita La Juventus È campione d'Italia No Vabbè Sarà 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 E la Champions Che c'è È butta Grazie.